Wow, guardate ragazzi, provola e pomodoro lì. Buonasera ragazzi, siamo da Enzo. Vorrei assaggiare la mia nuova pizza che sarà il nuovo menù, pizza natura. Un impasto idratato al 70%, con preferimento biga, stendiamo il disco di pasta e dopo inizieremo il condimenti. E che pizza ci fai oggi Francia? Faccio una pizza natura, con zatterino, pomodorino, provola, mozzarella. Dopo iniziamo con un mix di verdure, solo passate in padella. Guardate ragazzi, verdure saltate in padella. Tutto, champignon freschi. Che spettacolo, e si inforna ragazzi. Facci vedere Francesco. Questo spettacolare pizza, come si chiama questa pizza? Pizza natura, ci vediamo all'uscita. Guardate ragazzi, la nostra pizza è quasi pronta. Pochi secondi e... Tu dove sei Francesco? Io sono della provincia di Caserta. Caserta. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo ragazzi. La nostra pizza natura è quasi pronta. Lasciamo asciugare perché è un impasto idratato, a bocca di forno. E qua ci siamo. E ecco la pizza. E ecco la nostra pizza ragazzi. Wow, che spettacolo. Questa pizza è in anteprima per noi ragazzi, perché sarà disponibile sul menù. Nuovo menù da settembre. Da settembre ragazzi. Noi la proviamo in anteprima, solo per la tua vacanza in Messico. Wow. Andiamo all'assaggio ragazzi, guardate. Allora, che spettacolo. 60 secondi, 420 gradi. Wow. Questo cos'è? Basilico fresco. Basilico e olio evo. Olio evo. Cocciolio oliva. Ragazzi, non vedo l'ora di provare questa fantastica pizza. Ed ecco ragazzi la nostra pizza. Pizza natura ragazzi, andiamo all'assaggio. Pizza natura ragazzi, andiamo all'assaggio. Pizza natura ragazzi, andiamo all'assaggio. Pizza natura ragazzi, andiamo all'assaggio.